Domenica 15 luglio a Rosolini, presso l'eremo di Croce Santa, quarta mostra del cane, primo memorial Peppe Pricone, la mostra canina aperta a tutte le razze, meticci inclusi, con o senza pedigree. Per tutti i partecipanti saranno distribuiti ricchi premi. Best in show finale. Primo premio, viaggio in Spagna per due persone. Secondo premio, un iPhone 4S. Terzo premio, TV LCD 32 pollici. Apertura e iscrizioni a partire dalle 16 fino alle 18.30. Per info e iscrizione, contatta il 331 47 59 121 o cerca su Facebook Mostra Canina Rosolini. L'evento sarà ripreso dalle telecamere di Canale 8. Quarta mostra del cane, chi lo ama non può di certo mancare. Con la collaborazione di Centro Lattoneria Edile in via Benedetto Spadaro 4A ad Ispica e di Ristorante Pizzeria Lounge Bar Il Mercato ad Ispica.